Odino è il dio più importante di tutta la mitologia norrena. È considerato come il dio più antico e il creatore del mondo. Qualsiasi forma di conoscenza e abilità dell'uomo è stata presa da Odino stesso secondo la mitologia. È dotato di un solo occhio, dato che l'altro è stato sacrificato al dio Mimir in cambio di una sconfinata conoscenza. Odino è un guerriero eccezionale ma è anche un grande poeta. Egli conosce il destino di tutti gli uomini e dell'universo. Durante le battaglie in molti invocavano il nome di Odino dato che lui aveva il potere di scegliere chi sarebbe stato il vincitore. Così come il dio Loki anche lui è ritenuto un dio furbo e un ingannatore soprattutto se il fine è l'acquisizione di ulteriore conoscenza. Odino operirà durante il Ragnarok la battaglia finale fra il bene e il male divorato dallo spaventoso lupo Fenerir. La figura di Odino è nota in tutto il mondo e tantissime persone hanno udito almeno una volta il suo nome. Anche chi non conosce la mitologia norrena infatti ha sentito parlare di questo grandissimo dio. È spesso rappresentato con una lancia ingroppa al suo destriero ad otto zampe. Il cavallo Sleipnir, il più veloce del mondo.